Portami Hope, lo ucciderò davanti a te. Detesto parlare in pubblico ed essere osservata, quindi è difficile. Ma volevo solo dirvi quanto siete importanti e preziosi per me. Voglio una risposta! Sono una persona migliore. Grazie alla vostra amicizia, al vostro amore e alla vostra fiducia. Ed è stato un onore combattere al vostro fianco. Tre. Cleo, non farlo. Quindi, alziamo i calici. Alle famiglie che formiamo. Non devi dargli ciò che vuole. Hai capito? Due. E alle persone che siamo, grazie alle nostre famiglie. Uno. Car... Sono i tuoi occhi. Rimini che sono i tuoi. Sole. No. No. Grazie a tutti.